buongiorno a tutti voi popolo giallorosso eccoci qua commentiamo lo scempio di ieri sera ieri sera ho veramente evitato di fare il video ragazzi perché ero incazzato nero come non poco come non poco ho detto qui è meglio che non faccio il video perché altrimenti sarebbe stato un turpilovio di offese in pregazione verso tutti allora roma milan 1 a 2 ennesima occasione persa per fare il salto di qualità della roma ieri ho assistito a un primo tempo veramente indecente da parte della squadra giallorossa il milan nei primi 20 minuti avrebbe potuto sta benissimo 3 a 0 siamo entrati in campo molli siamo entrati in campo senza grinta timorosi non si sa per quale motivo senza concentrazione senza veramente senza nulla abbiamo perso delle palle sanguinose a centrocampo tra casrop villara che hanno mandato in porte al milan che si è suicidato anche lui perché si sono mangiati certi gol ieri sera veramente allucinanti e io ho messo io ragazzi ho avuto l'impressione i primi 20 minuti di stare assistendo alla classica partita di inizio preparazione estiva quando la squadra deserea va incontra praticamente la squadra direttante del posto no tipo avronzo di cadore tipo su tirol ecco mi sembrava quella la roma ho detto cioè non riuscivo a credere ai miei occhi superati i primi 20 minuti di stilicidio abbiamo cominciato anche noi a fa qualche giocata poca roba a dire la verità però abbiamo anche noi avuto le nostre occasioni l'azione di pellegrini e come al solito sottoporta se caga sotto quel tiro tevere tu col suo inserimento in aria parato centralmente donna ruva e soprattutto quel pallonetto finito fuori di michi italian ma ben poca roba diciamo ragazzi il mila venne anche una traversa e io mi sono domandato vabbè cerchiamo di andare a riposo sullo 0 a 0 perché almeno così rielaboriamo l'idea per il secondo tempo e cerchiamo magari di giocare meglio no no perché quando tu hai in campo un giocatore finito come fazio praticamente che ti fa quel fallo idiota a un giocatore che sta di spalle a 100 metri dalla porta e vai sotto 1 a 0 su calcio di rigore è chiaro che dice vabbè non te puoi presentare contro il milan con giocatori come fazio o giocatori come bruno peres che entra dal secondo tempo con giocatori come i vari paolo pezzi che ieri ne ha combinati tutti i colori ieri paolo pezzi ha alternato grandi parate a cappellate assurde come quella del primo tempo sul su ibrahimovic che non troppo segna infatti noi sono rimasta al libido dal fatto che i bravi invece non abbia segnato in quel frangente anche se lì pure il passaggio e l'indietro dei fazio è stato veramente sanguinoso e io dico ok magari il secondo tempo si riorganizzano magari la squadra gioca bene poi parliamo anche dei singoli e ragazzi non vi preoccupate che ho state che oggi c'è no per tutti secondo tempo inizia invece col milan che sfiora nuovamente il gol con teo hernandez poi casualmente facciamo una bellissima azione la roma entra nel secondo tempo un po più concentrata cerca di fare un po più gioco discesa sulla fascia di spinazzola passaggio indietro a veredù che fa un gran gol pareggiamo uno a uno e la dico cazzo speriamo che mo la squadra sa se sta bene magari possiamo anche cercarla di vincere sta partita manco per il cazzo perché paulovec si inventa un passaggio sulla tre quarti che favorisce il giocatore del milan passaggio a rebic mancini se fa in finocchia come indilettante e il mila torna in vantaggio e la ragazzi delle bestemmia si sono sprecate perché poi a me mi ruote veramente il culo perché io non voglio perdere le partite per errori nostri sia in fase difensiva che in fase offensiva ma perché l'avversario è più forte ci mette sotto e questo non succede mai ogni volta ci complichiamo la vita da soli e ci facciamo i gol da soli o ci mangiamo l'impossibile lì davanti perché poi la roma comunque ha giocato nel secondo tempo non è a demeritato ci ha avuto un'occasionissima con borca maiorale un'altra con miglietta un'altra fine dopo fine partita con media in tira centrale la roma la poteva pareggiare sta partita la poteva pareggiare invece niente niente di niente ieri la difesa è stata imbarazzante il migliore è stato cristante che ha fatto la sua onesta partita pur con tutti i suoi limiti paolo pese ne abbiamo parlato non lo vorrei più vede in porta manco in fotografia perché a me non mi interessa che tu fai tre quattro belle parate poi mi fai perdere la partita con una minchiata mancini stava giocando bene poi anche lui sul gol del 2 a 1 se fa supera in maniera troppo semplice dare bici al centrocampo ieri c'è stato un villare imbarazzante che è stato messo sul classato da tonali e che si bere 2 andata al corrente alternata assegnato ma a centrocampo ieri non non ha fatto il solito filtro infatti noi abbiamo persa a centrocampo ieri la partita un car drop che praticamente è stato quasi del tutto inesistente tutta la partita uno spinazzola che nel primo tempo non ha spinto per nulla nel secondo invece ha fatto decisamente bene mi chiedere anche su tre partite che è sparito dal campo maggiorare che fa quel che può perché non possiamo pretendere a maggiorare che fa un gol a partita che corre spesso a vuoto ma almeno ce ne impegna ma il calciatore che più mi ha indispettito ieri è stato quel fenomeno di pellegrini io ve lo dico ragazzi il prossimo che mi commenta e mi dice che pellegrini è un giocatore fondamentale per la roma che è un giocatore di livello che è un giocatore che fa fare il salto di qualità sta squadra vi giuro che lo banno dal canale lo cancello dal canale non me ne frega niente ieri è stato imbarazzante pellegrini nel primo tempo neanche sapevo che stava a giocare da quanto non l'ho visto proprio nel secondo ha sbagliato l'impossibile tra passaggi contrasti e tiri non tira mai in porta ti se tira 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 le mosciarelle non non fa un assist tira calcirango le punizioni a mezza altezza ne avesse messa meno una in aria un atteggiamento da giocatore inguardabile un capitano della roma non può comportarsi non può essere così ragazzi non può essere così non prende mai per mano la squadra non si prende mai la responsabilità non striglia i compagni non va a protestare in maniera consona con l'albero infatti per prendere il solito cartellino giallo del cazzo applaudendo l'arbitro non andando lì magari e dicendo ma perché così cosa niente per non parlare poi dell'arbitro perché c'erano anche per l'arbitro ieri perché ieri l'ultima mezz'ora è stato indecente invertiva le punizioni punizioni a favore dalla roma fischiate al milan su quel pallonetto in cui paolo pezzavala c'era un fallo clamoroso su diavara non fischiato per non parlare poi di quel contrasto in aria di me chitaria che lui mi deve spiegare dove cazzo l'ha visto il fallo di me chitaria che prende nettamente il pallone poi possiamo discutere se ce sia o no il rigore e compagnia bella ma tu non puoi andare lì ho visto io ma che cazzo hai visto ma che cazzo hai visto guida al rigore termina sei andato a rivederlo subito al bar tra parentesi e c'era tutto il rigore per carità di dio tra parentesi se quel rigore fosse stato dalla parte della roma non gli sarebbe mai stato dato e questo sono convinto ma pure al bar ma gli volete di guarda valla a controllare perché secondo noi c'era qualche dubbio ma chi c'era al bar topogigio c'era cioè ragazzi ieri veramente un'incazzatura dopo l'altra quindi dobbiamo ripartire nuovamente questa volta abbiamo perso la zona champions perché siamo andati sesti e ce lo meritiamo perché non si possono affrontare partite di questo genere in quell'atteggiamento così rinunciatario timoroso è indecente del primo tempo è chiaro che io ho sempre detto che la roma non c'ha la rosa per andare in champions perché le altre squadre ce l'hanno molta più ampia ma ripeto io non voglio perdere le partite per errori della mia squadra voglio perdere le partite perché l'avversario è stato più forte da quando è riniziata l'europa league in campionato stiamo facendo ridere forse anche la condizione fisica non lo so che cazzo c'hanno ma due partite europa league pareggio con benevento e sconfitta con milan sto milan non era imbattibile ragazzi non era imbattibile perché se la roma fosse entrata in campo con un altro piglio un'altra voglia un'altra concentrazione non avesse fatto sti errori individuali l'avrebbe portata a casa sta partita e invece abbiamo perso l'ennesima occasione per far salto di qualità perché perché come al solito no abbiamo buttato fuori il braga il milan è in crisi la roma è favorita ogni volta che la roma è favorita in un big match vedi contro la lazio vedi adesso col milan prende la scoppola prende la scoppola questo non è più ammissibile ieri è stato uno spettacolo indecente nel primo tempo è un secondo tempo da polli da polli ragazzi 11 minuti di sfogo basta così fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanti like commentate vi ricordo che nel pomeriggio ci sarà una live sul mio canale con michael loretta e forse nick giallorosso discutiamo un po di questa partita se volete partecipare ci fa piacere vi saluto ragazzi speriamo di poter commentare altre partite da roma in maniera diversa